Vogliamo essere chiari, chiunque assuma un'iniziativa che possa contribuire al salvataggio della Casa della Divina Providenza va sostenuto e apprezzato, a condizione che la sua non sia un'iniziativa di bassa demagogia, tesa al raggiungimento di risultati che si sa benissimo non essere praticabili se non impossibili, perché in tal caso, oltre a prendere per i fondelli i cittadini, si gioca vilmente sulla pelle degli ammalati e dei lavoratori. Pertanto, pur avendo un'opinione ben chiara sulla vicenda, in questa fase non ci interessa entrare nella diatriba che sta contrapponendo il sindaco di Bicelli e Spine e i suoi sostenitori alle forze politiche di opposizione su ciò che è accaduto l'altro ieri in regione. Ci interessa invece riportare i fatti, tentando di fare chiarezza su ogni tentativo di mistificazione. Riepiloghiamo. Il commissario Cozzoli ha avviato una procedura di vendita delle strutture di Biceglie e Foggia con il via libera del governo. I termini scadono lunedì 12 ottobre. Spina insieme ad altri esponenti politici bipartisani ha assunto un'iniziativa che ha prodotto un ordine del giorno presentato da diversi consiglieri regionali, con il quale si chiede di fatto una sospensione della procedura impegnando la regione direttamente o attraverso altre strutture come le ASL ad acquistare la Casa Divina Providenza. In subordine si chiede che dell'acquisto si facesse carico lo Stato anche in forza di un credito fiscale di 350 milioni. Si chiede inoltre la modifica di una delibera riguardante problematiche relative agli ortofrenici. Non entriamo neanche nella bontà della scelta privato pubblico. In estrema sintesi, chi avversa la scelta privato afferma che inevitabilmente porterà nel tempo ad una forte riduzione di prestazioni e posti di lavoro. Chi invece è contrario alla scelta pubblica afferma che in tal caso resterebbe un carrozzone esposto agli assalti e alla diligenza che ne hanno caratterizzato la storia, producendo ancora debiti su debiti a carico del sistema sanitario. Che cos'è avvenuto in regione? È avvenuto che Emiliano ha stroncato l'ordine del giorno dichiarando, e leggiamo dai verbali del Consiglio, di non avere alcuna intenzione di acquistare le strutture, che tale acquisizione non corrisponde ai nostri piani e non si inserisce in alcun piano di riordino. Emiliano quindi dice senza mezzi termini che la Regione, la Casa della Divina Providenza, non la comprerà mai e non per il momento, come ha dichiarato Spina. Il Presidente va oltre, dichiarando, riprendiamo sempre dai verbali, che il solo parlarne in Consiglio regionale poteva diventare una turbativa d'asta scoraggiando eventuali acquirenti. E conclude con il passaggio più pesante, quando dice che quest'ordine del giorno rischia di creare illusioni ed io a 56 anni non posso permettermi di fare del facile populismo. Sono parole come pietre. Tutte le richieste sono state quindi respinte e stralciate dall'ordine del giorno poi approvato, diventato un insulso impegno a seguire con grande attenzione la delicatissima vicenda al fine di garantire sia la salvaguardia delle prestazioni assistenziali e sanitarie, sia salvaguardare i posti di lavoro. E ci mancherebbe altro. Sarebbe questo il grande successo che Spina Millanta? Gli sentiamo dire che l'iniziativa ha avuto il merito di far assumere alla regione precisi impegni. Peccato che Emiliano, e vinciamo sempre dai verbali, ci ha tenuto a sottolineare come la questione sia sempre stata seguita attraverso un costante rapporto con il commissario straordinario Bartolo Cozzoli, nominato ben nove volte nell'intervento del Presidente. Come a dire non è certo la vostra iniziativa ad aver destato un'attenzione e un impegno che già c'erano e che il mio interlocutore è comunque Bartolo Cozzoli. Insomma, al netto dei patetici trionfalismi e dei tentativi di mistificazione è stata una debacle per la quale c'è poco da esultare, ma sulla quale non sono consentiti giochini. La richiesta alla regione di acquistare la Casa Divina Providenza, di farla acquistare a una ASL o in subordine allo Stato e la modifica della delibera relativa agli ortofrenici, è stata respinta. Questi sono i fatti, purtroppo o per fortuna. Il resto è aria fritta.